Buongiorno a tutti e grazie dell'invito e dell'opportunità di partecipare a questa giornata. Io sono un'emiliana, quasi emiliana, perché ho studiato a Modena, quindi vengo e ritorno in Emilia Romagna sempre con enorme piacere. Mi è stato chiesto di parlare della crisi o della post-crisi e tra le varie opzioni ho deciso di incertare il mio intervento non tanto sulla parte internazionale ma sull'Italia e la ragione per farlo è perché io credo che noi stiamo vivendo dopo 8 anni, 7-8 anni dalla grande crisi del 2008, un momento di crisi storica profondissima nel nostro paese, anche realtà di successo come il gruppo ERA o altre realtà della vostra regione non possono prescindere da questa crisi complessiva del nostro paese e credo che prima di poter parlare del futuro forse dobbiamo ritornare un po' indietro per cercare di capire, di dare la fotografia di quello che è successo negli ultimi 20 anni e solo su questa base si può, immagino, ritrovare un ottimismo della volontà. Quindi vorrei parlare, il mio intervento partirà da alcuni dati sulla ripresa o sulla non ripresa di cui si è parlato molto sui giornali negli ultimi giorni e poi partire dai nostri, le debolezze storiche dell'Italia a ripartire quindi riguardare quello che è successo dagli inizi degli anni 90 per poi parlare della grande crisi e arrivare solamente alla fine a qualche elemento di riflessione per quali sono le politiche del futuro. Ok, ripresa lenta o cambiamento di trend? Di che cosa si sta parlando quando i giornali ci dicono la crescita nel 2016 non sarà l'1.3-4 che aveva previsto il governo ma sarà molto di sotto dell'1? Vuol dire che la ripresa non c'è, che stiamo entrando in una nuova recessione oppure che c'è un cambiamento strutturale per cui la nostra crescita potenziale è in realtà diminuita e quindi questo dato di debolezza non vuol dire che non c'è la ripresa ma vuol dire semplicemente che il reddito potenziale è diminuito per una serie di fattori strutturali tra cui c'è una crisi della produttività e anche la demografia. Guardiamo a questi dati, questa è l'Italia, purtroppo lo screen non è abbastanza grande però parte dal 95 questa figura ed è questo il PIL e come vedete naturalmente cresce su un trend che qui è semplicemente una linea che parte all'inizio degli anni 90 vedete la crisi del 2008 che ci riporta sotto il trend però in realtà dal 2011 noi non siamo più ritornati su quel trend quindi direi che più, in un certo senso, quando ormai sono passati 7 anni non è detto, c'è il sospetto che questa mancata ripresa in realtà non sia una mancata ripresa la ripresa in realtà c'è perché siamo sul terreno positivo ma non siamo ritornati sul trend precedente. Questa è l'area dell'euro nel suo complesso vedete che qualcosa di simile succede anche agli altri, non solo a noi però in misura minore quindi direi che l'Italia ha il problema dell'Europa ma un problema peggiore di quello dei nostri partner europei anche se è simile come tipo di andamento. diverso da quello degli Stati Uniti di cui si parla moltissimo della ripresa debole tanto è vero che appunto la banca centrale degli Stati Uniti non esita a rialzare i tassi proprio perché legge questi dati come dati di debolezza però vediamo che gli Stati Uniti a differenza di noi ritornano sul trend. A questo punto quindi dobbiamo chiederci ma cos'è questo trend e tornare indietro perché quel trend lì io l'ho estrapolato solo dall'inizio degli anni 90 e quindi vi vorrei fare vedere un grafico in cui invece torno più indietro e comincio lì dagli anni 80. Il blu è l'Italia, il rosso è la zona euro dei 12, cioè i vecchi 12 meno la Germania e il verde è la Germania. Quindi vediamo che l'Italia non solo non ritorna nel trend degli anni 90 ma il nostro trend è un trend che è rallentato da circa la metà degli anni 90. cioè il nostro male viene da lì, viene da qualcosa che è successo dopo la crisi degli anni 90 dopo la recessione degli anni 90 in cui noi cominciamo a divergere dalla Germania con cui invece avevamo avuto sempre un tasso di crescita molto simile. Quindi credo che questo è il primo punto di riflessione che cosa è successo negli anni 90 e da questo forse questo ci può aiutare a riflettere su qual è la congiuntura di oggi. Quindi perché la ripresa è debole? Ci sono fattori quindi che hanno a che fare col trend e fattori che hanno a che fare forse con una domanda debole. Allora guardiamo le debolezze storiche, ho parlato degli anni 90. Che cosa succede negli anni 90? Dall'inizio degli anni 90, appunto come avete visto da quel grafico l'Italia perde la sua posizione relativa rispetto ai peers europei e il rallentamento è dovuto soprattutto ad un declino della produttività. Quindi oggi il centro è l'impresa e io credo che bisogna partire dalle imprese e capire che cosa è successo alle imprese italiane dagli anni 90. Una cosa che è ben documentata da moltissimi studi della Banca d'Italia su campioni di imprese molto grandi eccetera è il fatto che l'Italia negli anni 90 ha perso quella che era la ICT revolution, cioè la rivoluzione tecnologica legata alla comunicazione, cioè all'ITEC e alla comunicazione. Questo fatto che si vede in migliaia di dati dall'investimento negli intangibles, dalla produttività sul lato alto delle imprese eccetera fa sia anche che noi se abbiamo molto patito l'entrata dall'euro perché non abbiamo più avuto la flessibilità del tasso di cambio e non siamo riusciti a competere in inefficienza. Quindi quello che era stata la grande sfida entrare nell'euro per competere per efficienza invece che per svalutazioni competitive in realtà non ci siamo tanto riusciti quindi abbiamo preso questa botta che ci ha fatto perdere competitività rispetto alla Germania. A un certo punto all'inizio degli anni 2000 c'è un aggiustamento che però viene in cui le imprese si recuperano in produttività ma il 2008 interrompe questo aggiustamento e ora dal 2008 appunto sono passati otto anni e quindi in qualche modo è arrivato uno shock prima ancora di aver dato la possibilità all'Italia di uscire da questa debolezza degli anni 90. Questi sono i dati di produttività per ora lavorata questa è il PIL sull'ora lavorata questi sono i nostri peers la Francia, la Germania, l'Italia fatto a 100 il 93 quindi l'uscita da quella recessione vediamo come l'Italia perde colpi io credo che questo sia un dato abbastanza impressionante soprattutto se combinato a quello del dopo della crisi quindi diciamo è una perdita al cubo una perdita degli anni 90 ancora una perdita nel 2008 e poi del 2011. Ora questo grafico che è completamente invisibile quindi ve lo dico a voce perché non riuscite a leggerlo vi fa vedere per i vari paesi dell'OICD come questo fenomeno della diminuzione della produttività del lavoro sia un fenomeno comune a tutti i paesi dell'OICD l'Italia non so se riuscite a vedere è praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, la settima se si va da destra vedete che la produttività ovviamente era molto alta nel dopoguerra dal 50 al 72 questo è stato il nostro grande salto dell'industria manifatturiera questo è stato il grande miracolo non solo nostro ma anche della Germania e di altri paesi europei tutti i paesi in qualche modo sono vulnerabili a questa caduta tendenziale della produttività e questo ha a che fare con la natura della crescita con la natura del processo produttivo con il passaggio dal manufatturiero al servizi e quindi è un tema di grande riflessione però quello che mi importa qui sottolineare è la posizione relativa dell'Italia cioè in Italia c'è un crollo pazzesco negli anni 90 che è molto più alto se si compara con la Francia e con la Germania e praticamente arriviamo a zero o dopo la grande crisi del 2008 quindi ancora una volta sì questa è una tendenza di tutte le economie mature ma noi siamo messi molto molto peggio c'è un fattore Italia che va capito allora che cosa è successo negli anni 90? la cosa interessante è che dagli anni 90 in poi l'occupazione sulla popolazione è aumentata in Italia e così è anche aumentata la partecipazione alla forza al lavoro quindi i dati sul lavoro sono nell'aggregato non sulla produttività ma sulla quantità di lavoro in realtà sono dati che ci dicono dagli anni 90 anche grazie alle riforme che si fecero allora c'è un aumento della quota di occupati nella popolazione nello stesso tempo però c'è una diminuzione del rapporto capitale lavoro quindi nonostante il tasso di risparmio in Italia sia molto alto uno dei più alti tra i nostri appunto tra gli altri paesi maturi il rapporto capitale lavoro diminuisce con questo l'investimento quindi questo è stato chiamato diciamo lo sciopero del capitale allora perché? guardiamo alle imprese guardiamo cosa ci dicono per esempio tutti gli studi che ha fatto la Banca d'Italia sulle imprese le imprese italiane hanno nel periodo prendiamo una finestra diciamo relativamente recente però pre-crisi 2004-2007 le imprese italiane hanno avuto un alto tasso di crescita del fatturato la più alta in Europa ma bassa redditività del capitale spiegata da una relativamente bassa redditività operativa e dal peso elevato degli oneri finanziari quindi noi vediamo nell'impresa italiana un'enorme fragilità finanziaria è una grande dipendenza dal credito bancario cosa che in questa crisi ci rende particolarmente vulnerabile data la crisi delle banche di cui vi parlerò nei prossimi minuti quindi diciamo io voglio riassumere la situazione farvi vedere altri grafici riassumere la situazione in questa maniera il profit su equity cioè il return on equity ROE è relativamente basso rispetto a Germania e Francia questo è soprattutto un confronto con la Germania che per certi versi è il paese più simile a noi dal punto di vista della sua struttura produttiva i profitti sulle vendite cioè la profittabilità è medio alta quindi il problema in Italia non sono i profitti le vendite sugli asset sales over asset che è quello che si chiama l'efficienza operativa invece è bassa e gli asset su equity cioè il financial leverage è alto quindi appunto se si decompone il ROE in questi tre fattori in cui abbiamo appunto questa eguaglianza vediamo che appunto il problema è l'efficienza operativa naturalmente questo è un dato in media dentro ci sono i buoni e i cattivi però il dato in media è quello che poi fa la nostra posizione del sistema paese che se non funziona anche i buoni poi vengono in qualche modo contagiati dalla debolezza degli altri non scordiamoci che le crisi hanno sempre questa caratteristica la caratteristica del contagio cioè quando arriva una crisi siamo tutti più o meno nello stesso vagone e questo è quello che abbiamo capito nel 2008 allora vediamo la crisi questa è la fotografia pre-crisi gli anni 90 i vecchi mali e ora guardiamo che cosa è successo nel 2008 allora nell'aggregato c'è stato un crollo dell'investimento ulteriore a quello che diciamo descritto prima in coda alla crisi cioè ce ne siamo accorti molto tardi c'è stata anche una crisi bancaria in corso e si è creato un'enorme correlazione tra il rischio delle imprese il rischio delle banche e il rischio dello Stato perché noi siamo un paese ad alto debito pubblico in realtà appunto in questi paesi in cui in questi momenti appunto di fragilità bisogna pensare al paese come a un'unica balance sheet in cui praticamente le imprese deboli pesano sulle banche le banche debole pesano sulle imprese e lo Stato debole pesa sulle banche e viceversa vi faccio vedere ora alcuni dati che indicano questa cosa però abbiamo anche visto una grande eterogenità delle grandi differenze di risultati tra chi fa bene e chi fa male e questa è una caratteristica non solo dell'Italia ma anche di altri paesi che dopo il 2008 si è assistito a una grande polarizzazione di risultati tra le imprese forti e le imprese deboli e qui secondo me c'è una scelta di politica economica nel senso vogliamo che tutti sopravvivano come ha fatto il Giappone dopo la crisi degli anni 90 o vogliamo invece riflettere a un sistema che in qualche modo premia i più forti e va più in fretta diciamo anche nel accompagnare diciamo una ristrutturazione del sistema produttivo in cui le imprese marginali a un certo punto si lasciano al loro destino allora parliamo prima dell'aggregato punto 1 l'investimento questo è più o meno quello che è successo dal 2008 questi sono i dati italiani il PIL e il nero sono i dati di contabilità nazionale quindi vediamo esportazioni importazioni eccetera la parte più debole nella decomposizione del PIL nei conti nazionali è l'investimento che cade vertiginosamente questo è vero anche in Germania ora qui non vi faccio vedere i dati relativi però questo sciopero dell'investimento è anche una caratteristica della Germania in Italia però è ancora più accentuato si parla molto in Italia del fatto della debolezza del consumo in realtà non è vero il punto è l'investimento non è nel consumo durante la crisi il consumo ha retto relativamente per via di una serie di stabilizzatori automatici questo è vero in Italia è anche vero nel resto dell'Europa non è vero negli Stati Uniti noi siamo stati penalizzati più sull'investimento che sul consumo se si parla di investimento naturalmente ci si deve domandare perché è crollato l'investimento quindi ritorniamo alle imprese e queste sono invece le indagini del fondo monetario delle imprese dopo la crisi quindi le tre caratteristiche che spiegano il crollo dell'investimento sono che quella profettibilità che era alta pre-crisi come vi ho fatto vedere invece dopo la crisi è crollata le imprese italiane sono molto indebitate e questo è molto lento il processo diciamo di eliminazione del debito e il peso del debito appunto è aumentato quindi questo rende le imprese italiane molto vulnerabili ai tassi di interesse fortunatamente diciamo le politiche di quantitative easing che sono cominciate dall'inso al 2015 e diciamo una serie di cose che ha fatto la banca centrale europea già dal 2012 hanno reso le condizioni di finanziamento più facili però siamo passati da una situazione soprattutto del 2010 2011 e 2012 in cui abbiamo pagato un rischio paese sui tassi di interesse dovuto alla fragilità dell'Italia nel suo complesso in particolare al peso del nostro debito pubblico adesso appunto noi siamo molto diciamo dipendenti da questa situazione di facilità diciamo di tassi di interesse che rimangono relativamente bassi ma naturalmente se l'Italia dovesse rimanere in coda ad un'Europa che riprende questi bassi tassi di interesse non sarebbero più garantiti perché la BCE naturalmente fa una politica rispetto a tutta l'area dell'euro non rispetto all'Italia in particolare arriviamo alle banche che fanno parte della debolezza delle imprese nel senso che le banche in Italia relativamente solide nella prima parte post crisi del 2008 sono state invece appesantite dal debito delle imprese più debole i cosiddetti non performing loans di cui abbiamo straletto nei giornali prima dell'estate e siamo tutti qui adesso che l'estate è finita a vedere quando riscoprirà la prossima crisi bancaria e come andrà a finire con Monte dei Paschi di Siena eccetera eccetera quindi insomma i dati penso che più o meno li conoscete noi abbiamo un peso dei crediti deteriorati che è circa il 20% del credito totale è un numero molto grande e questa è la parte diciamo più deteriorata dei crediti deteriorati ma c'è anche un tasso di trasformazione di crediti in una fascia diciamo meno a rischio che però rischia di entrare nella fascia più a rischio e oltre a questo abbiamo un tasso di recupero del credito enormemente lungo dai 6 ai 7 anni contro una media europea più o meno di un anno e mezzo due anni questo vuol dire che le banche hanno i loro bilanci enormemente appesantiti cosa che rende difficile alle banche di erogare il nuovo credito vi risparmio questo semplicemente ci fa vedere dove siamo in senso relativo con i crediti deteriorati siamo messi un po' meglio di Cipro e della Grecia però insomma siamo più o meno subito dopo questa storia dei crediti deteriorati ha reso le banche molto deboli e questo è questo contagio di balance sheet che vi dicevo prima cioè se le imprese sono deboli le banche diventano necessariamente deboli anche loro e in realtà la fotografia generale del sistema bancario in Italia oggi è che il costo del rischio è più alto del return on equity ormai il return on equity delle banche è molto basso ho saputo che il return on equity in era è il 6.8 è più alto di quello del sistema bancario che essendo voi in utility svidisce tutto di come è cambiato il mondo il return on equity anche di banche molto solide in Italia ormai è intorno al 4 al 5 con un costo del rischio più alto quindi le banche perdono soldi le banche perdono soldi quindi la situazione sicuramente il sistema bancario come oggi domani sarà diverso nel senso che dobbiamo aspettarci delle aggregazioni una grande rimpasso della situazione questo significa questa figura vi fa vedere come il debito privato del settore corporate i prestiti bancari per classi di rischio a destra questi sono i prestiti i prestiti verso le imprese più rischiose sono crollati in certo senso è giusto che sia così il regolatore chiede alle banche esattamente questo di non prestare a imprese ad alto rischio questo però significa che c'è tutta una parte del nostro sistema SMI che è in bancarotta di fatto e quindi diciamo l'eliminazione dal sistema insomma cioè la digestione di questa parte del settore diciamo imprese sarà qualcosa di molto costoso dal punto di vista della stabilità e qualcosa di difficile da gestire con gli strumenti di politica economica che abbiamo e poi arriverò su questo alla fine l'altro pezzo di correlazione quindi ho parlato della correlazione tra banche e imprese l'altro pezzo di correlazione è la correlazione tra banche e Stato non solo le imprese vanno male ma lo Stato è molto indebitato quindi chi compra i titoli bancari italiani dalla crisi in poi c'è stato una grande quello che si chiama home bias per cui le banche italiane hanno comprato un sacco di titoli di Stato italiane le banche tedesche hanno comprato un sacco di titoli di Stato tedeschi eccetera questo significa che le banche non sono solo vulnerabili diciamo alla bassa produttività del sistema imprese ma sono molto vulnerabili a un possibile ritorno di crisi di debito italiano che al primo momento non c'è perché c'è la banca centrale europea che più o meno ci garantisce con il quantitative easing finché due questo è una questo mi fa vedere l'esposizione al sovran cioè quindi al debito pubblico del proprio paese come percentuale del quello che si chiama eligible capital cioè dei fondi propri diciamo delle banche si parla il regolatore parla adesso appunto di mettere una penalizzazione se questo rapporto supera il 25% questa è una delle cose che sono sul piatto nella trattativa con i tedeschi per esempio tra i regolatori del sistema bancario per darvi un numero unicredio al 116 ok e intesa San Paolo al 112 il monte dei paschi al 221 e quindi voglio dire se si andasse nella direzione di penalizzare le banche che hanno troppo debito pubblico del proprio paese per una ragione di diversificazione del rischio a cui il regolatore tiene moltissimo questo significherebbe per l'Italia per il sistema bancario italiano uno shock incredibilmente pericoloso oltre a quello che già ho descritto dovuto alla debolezza del sistema corporate ok quindi concentrazione dei rischi nei bilanzi correlazione dei rischi queste sono cose diciamo che rendono il mio quadro non vi voglio deprimere vedo che adesso tra un po' ci mettiamo tutti quanti a piangere però cerchiamo ok terza cosa quindi investimento banche polarizzazione la polarizzazione è qualcosa che ci fa sperare nel senso che è vero che c'è stato un grande aumento delle imprese vulnerabili dalla crisi in poi e qui ci fa vedere un indice di vulnerabilità che è il coverage ratio cioè l'interest coverage ratio cioè quanto le imprese quanto è il costo di interessi rispetto al reddito di imprese quindi questo è aumentato durante la crisi e diciamo c'è una percentuale di imprese vulnerabili che ovviamente è molto dipendente dal credito bancario e dai costi di interesse e sono diciamo l'anello debole della catena però se noi guardiamo questi sono dati aggregati non solo dell'Italia ma l'Italia ha un andamento simile la produttività se invece di guardarla nell'aggregato la guardiamo per classi di rischio di impresa ci sono in realtà le imprese di frontiera la cui produttività durante la crisi è aumentata non è diminuita da questo io credo che sia uno spunto di riflessione sulle cose che bisogna fare la crisi è anche un'opportunità durante le crisi le imprese buone si riorganizzano e fanno anche dei grandi salti di produttività si parlava prima appunto di quello che è successo nella ceramica per esempio mi pare che sia un esempio di questo tipo quindi questo è una delle cose su cui riflettere guardiamo i dati aggregati un disastro disaggreghiamoli e vediamo che c'è una grande polarizzazione la polarizzazione quindi che c'è una parte buona che reagisce la polarizzazione però arriva anche con un peggioramento della distribuzione del reddito quindi quando si dice la distribuzione del reddito è peggiorata bisogna fare qualcosa diciamo per la coesione sociale bisogna pensare che dietro c'è anche questo dato cioè il fatto che appunto c'è anche una parte diciamo più energica dell'Italia che si organizza e non va penalizzata quindi diciamo per concludere prima di arrivare al futuro la polarizzazione produce ineguaglianza e questo ha un effetto negativo sulla domanda però la polarizzazione è anche quello che ci aiuta sulle politiche di offerta quindi c'è una tensione tra queste due cose una tensione su cui io credo che la politica debba riflettere cioè su quali sono i trade off tra queste due cose quindi arriviamo al futuro io credo per il futuro diciamo se potessi fare un appello al governo Renzi direi questo ripartiamo non parliamo dell'Europa che ci affligge eccetera molti dei problemi sono nazionali partiamo dagli anni 90 perché è da lì che comincia il nostro declino e partiamo dalla produttività perché quelli sono i dati della produttività da questa diminuzione del rapporto tra capitale e lavoro nonostante l'alto tasso di risparmio e però pensiamo che qualsiasi politica dell'offerta che aiuti la produttività nel senso che faccia aiutare quella parte buona di imprese che vi ho fatto vedere che appunto la cui produttività aumenta però c'è un problema di sostenere diciamo dal punto di vista della domanda complessiva nel paese perché poi ci sono tutti quelli che perdono e che perderà è inutile farsi delle illusioni questi qui saranno gradualmente esposti dal mercato cioè tutta una parte delle nostre semi più deboli e per questo bisogna tenere una domanda aggregata alta allora la domanda aggregata alta noi siamo costretti da una serie di cose prima di tutto abbiamo un debito pubblico molto alto quindi non possiamo usare la spesa fiscale allora su questo forse c'è diciamo un po' di agenda europea però l'agenda è soprattutto nazionale a mio avviso vediamo dove si può pensare di fare politiche di domanda a sostegno di questa transizione vediamo le famiglie le famiglie sono robuste perché adesso vi farò vedere i dati li sappiamo comunque la ricchezza delle famiglie in Italia è molto alta però appunto il risparmio e il consumo a questo punto sono stazionari questa ricchezza è detenuta e soprattutto in forma di case la gente la detiene per motivi precauzionali è in qualche modo imbastita non produce cioè è ricchezza non è reddito quindi bisognerebbe in qualche modo sbloccarla per produrre reddito le imprese è la parte debole della catena sono altamente indebitate hanno c'è una necessità di riforma profonda sul modo di fare business dimensione troppo piccola le ricordava il presidente stamattina prima di me necessità di aggregazione di ripensare appunto all'efficienza in più appunto c'è la questione del credito imbastito dalla questione non performing loans quindi qui c'è tutta un'area di intervento molto importante di politiche governative nazionali che si possono fare sul settore pubblico direi che diciamo oltre a quello che dice il mio amico Perotti che bisogna essere più aggressivi sulla razionalizzazione della spesa pubblica eccetera eccetera però siamo abbastanza legati ad un debito sul PIL alto e lo saremo per ragioni soprattutto di denominatore perché una grossa parte di questo debito sono le pensioni in realtà quindi non c'è una parte del lavoro per il futuro è stato già fatto non credo quindi dobbiamo secondo me soprattutto ragionare sul PIL più che sul denominatore più che sul numeratore vedo che il mio time è up però ho solamente una slide ancora e sul settore estero purtroppo ci sono due problemi qui uno è che la domanda internazionale è in rallentamento questo penalizza oggi anche la Germania non solo noi noi abbiamo una tradizionale difficoltà all'internalizzazione dell'impresa dovuta anche alla piccola dimensione delle nostre imprese questo è un terreno sicuramente di iniziativa per fare vedere appunto la posizione di ricchezza dell'Italia rispetto agli altri paesi io credo che bisogna ragionare di più sulla colonna italiana vedete che questa è ricchezza netta sul reddito le famiglie hanno un rapporto di 100 o quasi 185% questo fa fronte a un debito di impresa del 116% e a un debito del governo del 131 quindi noi abbiamo imprese indebitate governo indebitato famiglie ricche quindi primo punto come si fa a sbloccare questa roba come si fa si è sempre parlato di patrimoniale io credo che alla fine una piccola patrimoniale andrà fatta però oltre a questo dibattito sulle tasse bisognerebbe pensare a strumenti finanziari che rendano rendano possibile a chi detiene case di usare queste case appunto che è questa ricchezza come collaterale per in realtà spendere e dare possibilità di spendere alle generazioni più giovani e quindi diciamo sulle famiglie pensare appunto a liquidifiare il patrimonio sulle banche io credo andiamo veloci sulla pulizia dei bilanci i tempi lunghi insegna il Giappone non sono mai serviti a nessuno sulle imprese iniziare cioè fare cose per liberarle da questa dipendenza dal credito bancario alcune cose il governo le ha fatte e per quanto riguarda lo Stato è importante accelerare quei processi sul red tape di lentezza del sistema giudiziario che rendono diciamo gli investimenti stranieri in Italia così difficili appunto alcuni progressi sono stati fatti il mio tempo è finito quindi non ne parlo ne sapete più di noi visto di me che voi abitate in Italia sul ruolo dell'Europa l'ultima l'ultima slide come ho cercato di dire per me c'è un enorme spazio di intervento nazionale quindi non smettiamo di lamentarci dell'Europa all'Europa per noi ci dà una grande cosa che è una banca centrale che ha la credibilità che rende possibile di avere in questo momento tassi molto bassi questa è un'opportunità quindi l'Europa a noi ci serve sostanzialmente per questo e abbiamo una politica monetaria molto molto easy che compensa effettivamente queste regole fiscali che sono eccessivamente dure ma credo che stiamo spendendo troppo capitale politico per negoziare la flessibilità quando invece per l'Europa forse si potrebbe discutere di un patto più a lungo periodo incluso per esempio un ruolo del fondo di stabilità europeo per solidificare rendere più stabile il sistema bancario in questo momento per esempio sulle questioni dei non performing loans eccetera io credo che lì un terreno di negoziato ci sia abbiamo perso la nostra opportunità anni fa quando la Spagna appunto chiese aiuto all'Europa e noi non lo chiedemmo io credo che è possibile che nell'autunno saremo confrontati a questa possibilità di trovare una soluzione europea al problema delle banche che è un problema che più presto lo risolviamo e meglio con questo concludo per dire la nostra crisi viene da lontano rimandare non è più possibile e quindi bisogna andare in fretta cioè non pensiamo che mantenendo il coperchio su questo sistema pieno di inefficienze ci ritroveremo tra dieci anni in una situazione migliore perché essersi mossi troppo tardi è stato estremamente penalizzante per il nostro paese e a questo punto i margini non ci sono più grazie grazie